Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, l'altro giorno ho fatto un breve video parlando delle situazioni di Higuain e Rabiot Gli ultimi due che mancano l'appello in Italia, visto che sono tutti gli altri 9 che erano andati all'estero De Ligt, Ronaldo, Pjanic, Matuidi, Lagras Costa, Danilo e compagno a Bella Mancano loro due, avevo detto che appunto Higuain era giustificato per il discorso della madre Sappiamo che Higuain era in Argentina perché la madre è malata e anche perché la figlia è lì con la madre della figlia stessa Quindi la moglie di un compagno di Higuain in Argentina perché è vividata pochi mesi quindi si è vista pochissimo E hanno approfittato insomma del lockdown per questa duplice cosa qua Quindi i motivi familiari anche in qualche modo confermati ecco anche da più fonti Invece per quanto riguarda Rabiot si è fatto un casino perché chiaramente le cose Man mano che passano da fonte a fonte da parte a parte le cose vengono un po' modificate da chi le dice Sicuramente inizialmente c'è stato un piccolo problema Parliamoci chiaro, un giocatore che è in Francia e che quindi è vicinissimo all'Italia Potrebbe tranquillamente far ritorno per la data prefissata quindi il 4, osservare le due settimane di quarantena E il 18 con iniziare ad allenarsi in gruppo Rabiot non l'ha fatto e alcuni dicono che fosse d'accordo con la società e quindi non c'è nessun problema Ma mi pare strano visto che gli altri 20 sono tutti quanti arruolabili Altri dicono che effettivamente il giocatore avesse in qualche modo fermato le cose e temporeggiato Cercando di quanto possibile rimanere in Francia piuttosto che andare in appunto ritorno in Italia Si dice adesso anche che si sia allenato tranquillamente ma questo l'abbiamo visto anche dai video che ha lasciato sui social Quindi si è continuato ad allenare appunto con le scale di allenamento della Juventus Si sono dette tantissime cose, come sempre grandissima confusione perché poi si rimbalza notizie diverse una con l'altra Fonti diverse, il giornalista che è vicino alla famiglia Rabiot, il giornalista che è proprio lontano alla famiglia Rabiot Non si capisce mai nulla Quindi adesso le cose come sono Fino a stamattina, stamattina del 12, del 5, doveva essere Rabiot in polemica aperta con la Juventus Tagliava tutti i ponti e sicuramente andava a finire male Dalla pomeriggio si diceva una cosa contraria Si dice da pomeriggio che Rabiot domani, domani quindi il 13 maggio, dovrebbe tornare appunto in Italia E osservare la quarantena a casa sua o a Giotel E fra due settimane, quindi 13 più 14 fa 27, teoricamente finisce La 28 finisce appunto la quarantena, si allena con gli altri e via dicendo Quindi sembrerebbe quindi le cose che si sono calmate Poi chiaramente quello che rimane come conferma è che noi non sappiamo quello che si è successo Andiamo solo ad ipotizzare perché su Rabiot si dicono molte cose E dopo tutte queste cose detto sicuramente c'è stata una piccola forzatura da parte dei media Che hanno cercato di costruirsi un caso Anche perché finalmente c'è poco di cui parlare E piuttosto l'ha costruito con Rabiot Visto che oggi se cliccate Rabiot su Google ci sono 50 milioni di articoli l'uno di verso l'altro Ma sicuramente al di là di questa costruzione fantasiosa in parte e interpretativa Credo che ci sia stato di fondo la verità il fatto che il giocatore abbia cercato di rimanere il più possibile in Francia Contro le indicazioni e non l'obbligo da parte di Juventus di averli arruolati Perché credo che non ci fosse l'obbligo di tornare a Torino in questa situazione di dubbio su quello che sarà il futuro Però sicuramente visto che tutti gli altri giocatori delle squadre sono tornati il prima possibile Dopo che c'è stato il decreto che ha portato all'apertura degli elementi individuali del 4 E contando che la settimana che tutti si allenano a turno Avete visto le foto due più o meno a sessione Vuol dire che qualcosa in fondo di vero c'è stato Qualche problema c'è stato, qualche attrito Ci può essere stato tra Rabiot forse anche coadiuvato dalla madre penso io E la Juventus Chiaramente su tutto questo abbiamo fantasticato E sperato che questo portasse a una divisione tra Juventus e Rabiot a fine anno Perché sappiamo che Rabiot non è entrato in nessun modo nei cuori non tifosi Qualcuno l'ha apprezzato a poche occasioni Io per primo Però tendenzialmente non è un giocatore per il quale vi streppere i capelli se dovesse andare via Ma sicuramente questa cosa qua Posto che comunque non aiuterebbe comunque il suo allenamento all'Eventus Perché non è che ha fatto tantissime cose Ma è anche vero che come primo anno Contando anche l'età che ha Sicuramente si può ancora aspettare Ma sicuramente potrebbe essere un'occasione di monetizzare Visto che è stato un parametro zero Con delle commissioni molto importanti per la madre Ma comunque gira e gira Contando l'età E comunque non è un scarpone totale Qualcosina si guadagna pure Però quindi resta aperto questa cosa qua Come sempre grande confusione Perché ci rimbalza notizie diverse Da ora a ora Si sono passati a E' fine con la Juve A torno a Torino Quindi probabilmente Reste quant'altro Gran casino Su Rabiot quindi penso questa alla fine Nella mia opinione è che qualcosina ci sia stato Questo sì Però alla fine Il lavoro è il lavoro E ci sono anche degli attempimenti Che Rabiot stesso le portano a termine Poi alcuni parlavano del fatto Che Rabiot fosse stizzito Da questo accordo I giocatori di tagliarsi i stipendi Questo non lo sappiamo Però effettivamente penso che Qualcosina ci sia stato Che sia un malumore Della situazione attuale Cioè alla Juventus In Italia O che sia un discorso legato A contratti A stipendi A soldi Questo non lo sappiamo Qualcosina ci sia stato Ma penso che ci sia C'è tutto molto arginabile Rispetto a quello che sembrava Già una divisione Confermata Da fonti Che poi non si capiscono mai I fonti quali siano Ma comunque Qualcosina ci è stato Ma insomma Non ingigantiamo la cosa Anche perché non sappiamo Se per ora finisce il campionato Quando finirà Quando ricomincerà Il calcio mercato La stagione successiva E tutto ciò che ne consegue Quindi come sempre Grande punto di domanda Il calcio vive su una bolla Di punti di domanda E speriamo che non crolli Che non scopri questa bolla Quindi ci troviamo Sprofondati per terra Intanto Vediamo un po' Gli eventi Come si susseguono E capiremo Con calma Nei mesi Nei settimane A venire Quella che è la realtà Anche nei confronti La BIO E nel calcio in generale Aspettate questi momenti Quali vostre interpretazioni Ipotesi Su questo discorso Sulla BIO Che io direi Che ci mettiamo Un punto e virgo In attesa Di nuove Notizie Più più certe E niente Alla prossima Forza io come sempre Ciao Siamo sempre qua Storia in bianco e nero Dove abbiamo solo un ruolo Visto da comparsa Visto da comparsa Visto da comparsa E niente Visto da comparsa